Ci sono vittorie e vittorie, quella del Gravina contro il Gallipoli nello scontro salvezza giocato sul sintetico del vicino. Ha un valore inestimabile per i Murgiani, è la prima della gestione Pietro Infantino e permette di stoppare la serie negativa dopo tre sconfitte consecutive. Ha tanto valore insomma il gol partita realizzato contro i Salentini da Vidal, successo soprattutto fondamentale nell'economia stagionale dei Murgiani. Io sono molto contento, sono contento della sofferenza perché quando impari a soffrire impari a gustare la vittoria, impari a sapere che questo campionato se non c'è anche il sacrificio al di là della qualità risultate ne fai pochi. Niente voli con la fantasia però, la strada verso la salvezza è ancora lunghissima. Il Gravina con la vittoria contro gli ex coinquilini del Gallipoli però ha lasciato l'ultimo posto della classifica proprio ai Salentini e scavalcato alla Palmese. La salvezza diretta al momento è distante cinque lunghezze. Le classifiche sono sempre velitieri, qualcosa è sempre mancato. Noi stiamo costruendo qualcosa che ognuno di noi deve dare qualcosa. Io sono venuto qua per dare una mano a questi ragazzi che sono speciali. L'ho detto stamattina al direttore, io mi trovo benissimo, sono persone per bene, persone che non vogliono fare brutte figure, però dobbiamo dare di più, dobbiamo lavorare molto di più. Ma io sono contento che c'è la predisposizione a farlo. Poi la tattica, la tecnica, secondo me è sempre di secondo piano. Però quando c'è il piacere di stare assieme, di venire allo stadio ad allenarsi, stare insieme, ad avere un pensiero unico sicuramente. Questa vittoria serviva a rinforzare questi concetti. Da uno scontro diretto ad un altro, Gravina domenica impegnato in trasferta nel derby contro il Bitonto. Le due squadre sono appaiate a quota 12 punti in classifica. Fondamentale fare risultato per il giallo-blu che poi chiuderanno il 2023 affrontando in casa la Gelbison il 17 dicembre in trasferta il Manfredonia mercoledì 20. Una buona fetta di salvezza. Insomma, passa anche da questo trettico di fine anno solare.